Questo è un po' il percorso che occorre far fare alle persone per avvicinarle, coinvolgerle, convertire dove noi vogliamo cercare di farle convertire, controllare tutti i numeri e dal di qui inizia a diventare una macchina davvero interessante. Per questo viene utile un percorso a 90 giorni, avere un piano trimestrale e ogni trimestre tirare una riga e andare a riprogettare, revisionare quella che anche è la strategia, quelli che sono la comunicazione, perché non è un qualcosa di estremamente statico, non è che costruisco un sito, un e-commerce e boom, per i prossimi due anni è così. Una strategia può essere tranquillamente maleabile ma basata su dei numeri.